Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti all'appuntamento con la Riccardi Auto concessionaria Opel che ha ben tre sedi a vostra disposizione. Noi oggi ci troviamo in compagnia di Giacomo nella sedia di Olgiatolona. Ciao! Ciao Rosi, benvenuti a tutti. Riccardi Auto, Olgiatolona, concessionaria Opel per tutta la zona di Busto Arsizio. Vi ricordo per raggiungerci siamo in corso Sempione 68, uscita Milano Laghi e Busto Arsizio. Seguite le indicazioni per Castellanza e ci trovate sul Sempione all'altezza del semaforo del Buon Gesù. Parte l'anno, siamo ricchi, siamo carichi di incentivi, di novità. Elettrico, benzina, diesel, ibrido, plug-in abbiamo a disposizione tutto per soddisfare qualunque tipo di esigenza. Io direi, tanto la nascondiamo un attimino questa novità, partiamo magari prima dopo il Corsa. Corsa, che è sempre la nostra utilitaria. Opel Corsa, pensate che per questo periodo vi moltiplica gli eco-incentivi. Arriviamo fino a 13.000 euro di sconto per quanto riguarda le versioni elettriche. Opel Corsa, svariati allestimenti, dall'allestimento Edition all'allestimento Elegance più completo, oppure versioni GS Line più sportive, disponibili con 1.2 benzina da 75 cavalli per neopatentati, 1.2 turbo da 100 cavalli, disponibili con cambio manuale o cambio automatico. Cambio automatico che equipaggia anche la versione da 130 cavalli per quanto riguarda sportiva GS Line. Alimentazione turbo diesel, 1.500 cavalli, diesel pulitissimo, assolutamente a bassi consumi. Sembra che va d'acqua quasi, non consuma praticamente niente. Anche il diesel rientra nel discorso degli eco-incentivi, proprio perché è un diesel di ultima generazione pulito. Oppure, se volete veramente essere green a tutti gli effetti e sfruttare al meglio questi incentivi statali, abbiamo Opel Corsa nella versione totalmente elettrica. Opel Corsa elettrica 100 kilowatt per un'autonomia con una batteria da 50 kilowattora che arriva a superare i 330 chilometri. La possibilità, e questo è molto importante, sulle macchine elettriche Opel ha una svariata tipologia di ricariche. Dalla ricarica domestica, quindi con la classica presa asciuco che usiamo col ferro da stiro e con la lavatrice a casa, assorbe un kilowatt e otto, quindi rimane anche sotto gli eventuali contatori da 3 kilowatt e mezzo, non c'è bisogno di fare modifiche al vostro impianto elettrico e avete la possibilità di ricaricarla a livello domestico. Altrimenti c'è l'opportunità per chi vuole installare la wallbox di arrivare a una ricarica fino con un trefasi a 11 kilowatt nelle colonnine pubbliche. L'alternativa invece della carica rapida che adesso sta iniziando a prendere piede in molte autostrade dell'Italia, si arriva a caricarla fino a 100 kilowatt e pensate che con una ricarica da 100 kilowatt la batteria si riesce a raggiungere l'80% della capacità in mezz'ora. Quindi una ricarica davvero, davvero rapida per chi magari vuole utilizzare una macchina elettrica per fare qualche spostamento in più rispetto al classico cittadino urbano per quale è nata la macchina e per cui la macchina si presta particolarmente. Sì direi che comunque 330 chilometri di autonomia sono veramente tanti quindi se uno va a lavorare a 50 chilometri da casa, rientra la sera anche senza doverla ricaricare può farlo addirittura per due o tre giorni senza neanche bisogno anche se poi il consiglio è quello di ricaricarla in modo che abbiate sempre sempre l'autonomia completa e mi sembra davvero interessante. Poi non c'è il fastidio di dover fermarsi alla pompa eccetera. Uno arriva a casa, la parcheggia, attacca la sua spina in garage, la mattina si sveglia e trova la macchina con il pieno di energia. Più comodo di così, pagate di meno perché comunque spendete meno con una ricarica e poi siete green al 100%, avete possibilità di avere un eco incentivo che arriva addirittura fino a 13 mila euro, insomma ci sono tutti i vantaggi. Proprio per quanto riguarda i vantaggi non pensate che una corsa elettrica sia tanto distante a livello di costi rispetto a una macchina benzina. Pensate che proprio perché Opel arriva a 13 mila euro tra incentivi Opel e incentivi statali sulla vettura elettrica, vi dà la possibilità comunque di accedere all'acquisto della versione di Corsa E con 189 euro mensili. Non tanto distante, in realtà dai 149 euro che è l'offerta per quanto riguarda Corsa Termica. Corsa Termica, anche qua riusciamo a usufruire degli incentivi statali e tra Statale e Sconto Riccardi si arriva a 6 mila euro, a 149 euro mensili, pacchetto classico nostro ormai di scelta Opel con la possibilità di includere già anche i servizi, quindi furto, incendio, cristalli, attivandalici, grandine, assistenza stradale e garanzia. Avete l'opportunità di spostarvi da un'alimentazione tradizionale benzina a un'alimentazione elettrica. Assolutamente, con una poca differenza. Venite perché troviamo una soluzione che si adatta al meglio alle esigenze di tutti. Veniteci a trovare proprio per vedere l'offerta di Opel Corsa. Spostiamoci adesso invece sulla nostra gamma SUV e sulle novità. Sì. Novità Opel Crossland 2021. Nuovo visor, nuova linea accattivanti che caratterizzerà tutta la gamma Opel che uscirà partendo da Crossland che è la prima vettura con questo nuovo frontale, ai Mokka che sono già ordinabili e che andremo ad accennare tra poco. Opel Crossland disponibile sia modello 2021 e abbiamo ancora la possibilità, una vasta scelta di modelli 2020, visto che gennaio è periodo di saldi, buttiamo dentro anche i saldi sulle macchine. Saldo per quanto riguarda Opel Crossland X versione 2020 fino a 7.000 euro di sconto con la rottamazione. Opel Crossland X lo offriamo a partire da 13.450 euro oppure con scelta Opel da 159 euro mensili, sempre tutto compreso con servizi, assistenza, estensione di garanzia e pacchetti che eventualmente possiamo decidere insieme dal momento in cui venite a trovarci. Io mi sposterei a questo punto... Scusami Giacomo, direi solo che invece per scoprire le offerte sulla Crossland 2021, venite qua, venite a scoprire, perché comunque ci sono. Ci spostiamo ora sulla nostra top di gamma per quanto riguarda il segmento dei SUV, io direi di vedere Granland, Opel Granland X, SUV sempre più bello Granland, attualmente disponibile in varie alimentazioni, Opel Granland X, vi ricordiamo che ha la possibilità dell'alimentazione termica, benzina oppure turbodiesel, oppure elettrico plug-in, 224 cavalli a trazione interiore oppure 300 cavalli a trazione integrale, disponibile diesel e benzina a cambio manuale o cambio automatico, attualmente con le super offerte di Opel, Opel Granland lo offriamo a partire da 19.500 euro, con l'incentivo rottamazione. Per quanto riguarda invece l'elettrico plug-in, Opel Granland, 299 euro mensili, sempre con scelta Opel. Ricordiamo che su Granland con l'eco-incentivo si arriva fino a 12.500 euro di sconto per chi ha una rottamazione e per chi l'acquista tramite la nostra ormai celebre soluzione di pagamento, scelta Opel. Quindi venite a trovarci, perché anche per Granland, che è il nostro cavallo di battaglia, la nostra punta di diamante. Per quanto riguarda i SUV, ci sono davvero, davvero varie opportunità e varie offerte. Anche Granland, per chi eventualmente non avesse una rottamazione, abbiamo la possibilità di offrirlo con chilometri zero, anche chilometri zero per quanto riguarda la versione ibrida, perciò massima scelta e ci sono varie possibilità per chiunque. Ripeto sempre, io mai mi dilungo, venite a trovarci, che è una soluzione, la troviamo sempre per voi. Direi che la cosa migliore, già scusami, ti ho interrotto, la cosa migliore è proprio quella di venire personalmente, perché noi buttiamo lì cifre, buttiamo lì sconti, però sono veramente importanti. Fateci caso, 12.500 euro per le vetture da rottamare, quindi avete una rottamazione che non vale niente. In questo caso, se venite qui e acquistate una Granland, potrebbe valere 12.500 euro. Per cui è una cifra importante, poi ci sono appunto le varie soluzioni di pagamento. C'è il chilometri zero per chi non ha la vettura da rottamare, che quindi ha uno sconto, comunque anche se non può soffrire dello sconto rottamazione. Quindi massima scelta. Abbiamo macchine e soluzioni per tutti. Per tutti, venite a parlarne con Giacomo e con gli altri collaboratori. Assolutamente. Non dimentichiamo. Assolutamente. Ne manca una, tra l'altro nella gamma SUV, non di poco peso, perché si parla di Opel Mokka. Opel Mokka è in arrivo, le abbiamo già ordinate, arriveranno nel giro probabilmente di un mesetto e si può già ordinare, c'è già un'offerta dedicata per quanto riguarda Opel Mokka. Vi ricordo che Opel Mokka si può avere diesel, benzina, oppure sempre con l'alimentazione, totalmente elettrica, per sfruttare al massimo il discorso degli eco-incentivi statali. C'è un'offerta proprio dedicata, tra l'altro, per quanto riguarda Opel Mokka elettrica. C'è la possibilità anche di fare un acquisto un po' più moderno anche online per la vettura, si arriva fino, pensate, a 11.000 euro di sconto. E Opel attualmente fa una soluzione dedicata a chi l'acquista, per quanto riguarda l'elettrico, con il wallbox, l'RC Auto per un anno gratuita e gli optional al 50% sulle versioni in lancio online. Anche Mokka si può acquistare nelle versioni normali e tradizionali con scelta Opel a 299 euro al mese, quindi anche già su Mokka, seppur una novità non ancora disponibile in salone, abbiamo già delle offerte dedicate. Per il prelancio, quindi venite subito. Assolutamente, quello è vero da sottolineare. Così sarete i primi a guidarla quando arriverà. E quelli che la pagano meno. Eh sì, e quelli che la pagano meno, perché avrete tutti questi vantaggi, la wallbox, il 50% sugli accessori, insomma, davvero straordinarie le offerte. Assolutamente, vi ricordo di venirci a visitare sul nostro sito internet www.riccardiauto.com www.riccardiauto.com troverete tutta la gamma degli usati e delle chilometri zero. Un accenno delle chilometri zero, abbiamo la possibilità di avere Opel Astra chilometri zero a partire da 17.500 euro con motorizzazioni diesel oppure benzina, abbiamo le aziendali, abbiamo davvero, davvero di tutto. L'importante appunto è venire qui, visitare il sito per avere l'opportunità di conoscere tutte le offerte che non abbiamo il tempo di presentare durante la trasmissione. Perciò ricordate, prendete nota del indirizzo, numero di telefono, delle varie sedi naturalmente della Riccardiauto. Noi ci troviamo in questo momento in Nalgiato Lona, avete sentito veramente semplicissima da raggiungere, ma soprattutto approfittate di questo momento davvero favorevole, non aspettate, non perdete tempo, perché? Perché l'altra volta quando ci sono stati gli incentivi c'è tanta gente che è arrivata in ritardo, erano finiti, bisogna correre. Bisogna correre, approfittatene subito perché non sappiamo, li hanno rinnovati, non sappiamo per quanto dureranno, che cifre ci saranno, perciò approfittate in questo momento che avete delle cifre davvero, davvero importanti, fino a 13.000 euro, addirittura sulla corsa full elettrica, fino a 12.500 euro su Grand Rende, comunque su tutta la gamma, avete degli sconti straordinari, ma soprattutto l'opportunità di scegliere qualunque motorizzazione desideriate, che sia benzina, diesel, ibrida, full elettrica, insomma ce n'è per accontentare davvero tutti, perciò venite qui. Venite a trovarci, vi ricordiamo anche che Riccardi Auto è su tutti i social, sia Facebook che Instagram, quindi oltre a www.riccardiauto.com ci trovate all'interno dei social. Dopo i social ricordiamo anche che Riccardi Auto e Opel è sinonimo di veicoli commerciali leggeri, quindi la nostra gamma di veicoli commerciali dedicata a tutti i professionisti, spazia da Opel Combo che attualmente è disponibile assolutamente con incentivi rottamazione per quanto riguarda anche questa è una novità è una novità perché la rottamazione statale è stesa a tutti i veicoli commerciali partendo da Opel Combo che dà la possibilità di avere il 29% di sconto più 2.000 euro di incentivo rottamazione Combo passo corto passo lungo disponibile in pronta consegna disponibile se hai la possibilità di ordinarlo sempre con le scontistiche riservate a tutti i clienti Opel diesel oppure benzina un passo successivo invece se volete qualcosa di un pochettino più grande per quanto riguarda Opel Vivaro Opel Vivaro pensate che ha la possibilità di essere acquistato col 37% di sconto per tutti i clienti già Opel quindi chi ha una Opel su Vivaro ha un occhio di riguardo venite a sostituire il vostro vecchio mezzo con un mezzo nuovo sfruttando gli equincentivi perché oltre alla scontistica dedicata del 37% attualmente lo Stato contribuisce con 2.300 euro per la versione ad alimentazione termica e 5.600 euro per la versione totalmente elettrica Opel Vivaro dà la possibilità di essere acquistato con batterie da 50 o da 75 kWh per aumentare l'autonomia e per tutti i professionisti che vogliono approcciare anche l'acquisto di un veicolo per il lavoro totalmente elettrico direi che non è male non è da poco assolutamente e non sono tantissimi i mezzi commerciali totalmente elettrici per cui approfittatene è una bella novità finiamo invece con Opel Movano Opel Movano il mezzo più grande più versatile della gamma Opel quindi la possibilità di averlo furgonato o averlo con gli allestimenti partendo dal telaio per avere cassoni fissi cassoni ribaltabili piuttosto che furgonature gran volume anche su Opel Movano 38% di sconto e 4.400 euro di incentivi per quanto riguarda la rottamazione soluzioni di pagamento sia per finanziamenti sia leasing oppure anche noleggio potete vedere davvero una soluzione che si adatta meglio alle vostre esigenze di lavoro se avete delle esigenze particolari noi siamo proprio qua apposta a soddisfarle vi salutiamo intanto e venite a trovarci sia nella concessionaria sia nei social quindi www.ricardiauto.com facebook e instagram un saluto ti ringrazio Rosy ringrazio te Giacomo e ringrazio tutti voi per l'attenzione e alla prossima ciao alla prossima grazie a tutti